Gli stimatori del rumore del fai Sono tutte cose che dice che dovrebbe essere super rilassante C'è una setizia con queste voci Super tranquille ASMR Autonomous Sensory Meridian Response Mi dice Wikipedia Un'esperienza caratterizzata da una sensazione Ah ecco cosa dovrebbe farti venire Tipo i brividini O i solettichini Quelli piacevoli La pelle di poglia Stuzzicando Che dovrebbe iniziare Mi manca doni No sono entrando Dalla Dalla nuca e si dovrebbe muovere L'ungolo basso della schiena e la colonna vertebrale Ma che cazzo stai guardando E su Wikipedia è stata confrontata Alla sinestesia audio-tattile Questa è la categoria fetish La ASMR Dopo quelli che fanno l'iniezione dei bambolotti Abbiamo visto tutto Mamma mia Mamma l'umanità Mamma l'umanità Avvicina un po' il microfono da bocca a Luigi Che ti si sente tipo lontano Mamma l'umanità Ecco Minchia il pinga di Medigel Di Marco Z Ah non ho cambiato personaggio Chi sono? Sono sempre il tizio della trota Sei la persona rosa Ma non l'abbiamo già fatto a questo livello? Sei la persona rosa No Come no? No questo l'abbiamo cominciato Chi è che non c'ha la testa? Sì Io sono la testa Ah ok Ma tu l'hai comprato Sto personaggio a me me lo fa comprare Ah ma perché tu hai tutto il pacchetto di Sirius Sam No ma dipende Alcune si sbloccano Io per esempio ce n'ho ancora una da sbloccare Non so Ma io ho questa qua Quella che ha lui che ha da comprare E basta Seguite la precetta C'è una grotta qua Adesso arrivano gli schietri qua dentro Che sono? Ah Dov'è C4? Ma dai Ma di te Ma io non C4 Attenzione a non ti darci nel faccio Sono caduto Quindi sto per morire F E non puoi mettere il muso fuori Dobbiamo fare attenzione che Che ci si spinge a vicenda Sono finiti Ho fatto malissimo Sono morto Mi sono fatto malissimo Perfetto Che bella Una stanza alla Sirius è piena di gente È piena di amore Eh sì Qua c'è una leva L'avete tirata? Uh qua c'è un'uomo bella Gli sa di no Eh sì Eh purtroppo nella stanza di là Sento rumori ma non vedo Ah ecco Allora Eh vabbè scendiamo Eh scendiamo Chi c'è? Qua c'è il trappolone Dai Non ci credo Qua c'è il trappolone No Non c'è la Eh vedi che c'è C'è la palla Eccola eccola Fa' il culo L'ho detto io Perché Tony ha trovato un segreto io? Perché sono salito Beh l'altro non ho trovato Non so cosa sia il segreto Era la palla il segreto Dimmi sono Ah vabbè non è morto nessuno Con la palla Quindi Ah sta qua il segreto E che E cos'è Proietili per mitragliatore Per mitragliatore Ah ok C'è che metti i proiettili in là No Proiettili Proiettili è una palla di roccia Da qualche tono di là Te la scasso la colonna Te la scasso No non si è rotta Non si rompono queste Bu Sono una colonna Sono una colonna Nel particolare C'è una leva La colonna è riqualizzata Eh arrivano gli scheletri Ah scimmi Ah scendono Guarda scendono dai muri Porco die Ma guarda se mi incastra Ma dai Ma dove sono arrivati Dai muri Sono scesi dai muri Sono scesi dai muri Sì ma non è fatta niente sta lei Ah no sta girando la ponte Sì ha aperto la portina Ha aperto anche la portina qua Perché sta girando la colonna? Sta girando cosa? Ah La colonna qua È vero? È un ponte Probabilmente bisognerà salire Sì Eh di qua dai che saliamo Ah Promo si è messo di storto Non capisco com'è Vabbè andiamo Sta continuando a girare No vediamo No Ah forse non girano per sempre No si è fermato Ah o fanno un po' per uno Non lo so Allora bisogna di tirarla Ti arrivano Umba Fa un po' senso Vederti senza testa Te lo so Sì mi sa che dobbiamo girarla Ok Questa qua al centro è la leva Ok Eh ma non farò mai in tempo io Eh dai però Panzai Ah ho fatto in tempo Una volta Cioè ma dove è apparso questo? Ma che Ma che cosa Correte che sono due C'è un anche qua in fondo Che gira Oh Uh oh Campione del mondo Campione del mondo Campione del mondo Altre due Oh No Jack Così C'è un uomo morto Con un firma capelli Vezoso O forse un coso bluetooth T'ho voluto bene Sam If anyone survives We'll find you Shit Hellfire 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 Oh 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 Che uomo Che uomo Che uomo Che maschio Eeeh! Che succede? C'è il mostrone delle tabbie che ti ha fatto vivo. Quasi si sta dando troppa roba. Next life! Ottimo che ne avevo già perse parecchè io. Eh, pure io. Cazzo, ne avevamo già cinque, non me ne avevo neanche accorto. Eh, guarda, tre volte, tre volte son morto io, ma col... Son rimasto incastratto con i teschi. Allora, facciamo accaccare il cazzo. Il cadone ci hanno dato mezza volta in mezzo quadro e mezzo quadro. E lui mi metto qua, qua non mi prendi. Ahahahah! Ahahahah! Sono il re del mondo! Ahahahah! Cheater, 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 cheater. Non posso spingere? A volte si, a volte no, non lo so. Siete delle persone cheater? Io approfitto. Io sfrutto l'environment, non è che sono un cheater. Ma è vero? Clever il uso che il meccanus, aia. Esatto, eh. E anche un po' di emergent gameplay. Ok, eh. Ahahah. E puoi mettere anche decision making. Decision making con la palla. Decision making a zeffone. Come si dice? Oh! Oh! Che cazzo è stato? Ah! C'è un manco... Manco cosa. Io non ho ancora stracciato la faccia a uno di sti cosi, però, eh. Ci tengo. No, chi è che mi ha sparato? Io... Ho già le ombre che vanno a puttane. Eh, pure io. È proprio un problema del gioco. Noi di nooo. Noi... Oh! è la tipa dove dove nei cieli ahah ce l'ho fatta giorg scusate ma si ma c'erano ben due achievement da prendere non è che potevo raffarci dov'è la dov'è la zonbo ma chi è che mi sta farbendo guardalo che giro l'angolo madonna mia madonna 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 ci andiamo a sparare un po' che tiri l'angolo madonna 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 Allora... E mo questo che lo do? Da laiiiife! Ho preso il cimet chiropratico! Credo che sia per avere... Quando fai tutte le mosse finali! Si immagino di si! A furia di svitare teste alla gente! Dove sta questo? Se lo sento non è vero! Dietro al muro? Ah qua dietro! Ma chi è che si sta divertendo qua dietro? Io! Mi scampo la destra! 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 In currently un po' Un po' Arriva! It's Grand Life!!! Ma che manco voce per far sta caz... C'ho 160 anni in quattro qua! guardate che dietro ne abbiamo lasciate di vivi se volete e mo gli svitiamo la testa pure a loro qual'è il problema extra life ce n'è un altro là aspetta 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 eccolo qua ma quella era per i punti no no l'ho presa io è questa qua ma quella prima no no ah si forse quella prima era per i punti oh ok ah siamo dall'altra parte di sta cosa non è esploso lì in aria ho visto anch'io due esplosioni in aria ma non ho preso per me manco bo infecibile mi piace niente fammi la pace ma dio ca c'è sempre la polla la chiave per aprire la porta in aria qua chi è che c'è la chiave? mi hai trovata ma quella chiave bravo ma stai ragazzi c'è roba c'è roba c'è roba c'è roba c'è roba ah vai a riempire la macchina dobbiamo riempire la macchina di benzina ah già si dobbiamo riempire la macchina di benzina per andarcene di qui non ricordo sto pezzo ahia ah ma sei tu sei e muori ho trovato un segreto bravo in mezzo al deserto un pezzo di armatura sono tutti separati? questa impressione infatti sto cercando di trovare qualcuno di voi ma c'è il sparo è ormai sparare è gravissimo eh cazzo allora la macchina dove c'è? buccodio mi sono appena preso un razzo super in cura eh beh sei felice? dov'è la macchina? dov'è che dicevi la macchina? dai li ho beh è lampeggia viola come la tannica adesso non saprei di più dove in che direzione perché sei extra life manco bus ah non quei punti la macchina è dove sono io qua c'è un'altra benzina ma io ce l'ho a benzina dove stai tu? vai a consegnarla c'è se venite in questa direzione dove sono avuto io c'è una dell'altra ma scusa sono appena perché io non riesco a prendere la tannica? quale cazzo è la macchina scusate? in teoria è questa è questa qua lampeggiava questa prima dove siamo noi? ah forse me l'ha fatta mettere già non lo può 3 su 8 basta che ti avvicini ma io dobbiamo cercare le altre altosaniche qua oh scusate doppio a baldrack c'è un'altra qua ma io la begia l'ho messa non ho capito è piena almeno questa gli fa i danni dai queste due mangià merda vaffanculo ci sono i razzi eh vaffanculo mi ha bloccato mentre mi arrivava il coso schieto addosso ma dove cazzo sta madonna santa eccola qua 8-8 ah ne mancava una bu alle maledetta luia come cammina questa macchina? sui cerchioni eh vabbè sui dischi dei frecci sulle enormi palle che c'è la Sam esatto e a motore e a motore testicolare se questo è il livello finale preparatevi per una roba mai vista prima credetemi no dovrebbero mancarne tre dei livelli sai a me pareva ne mancassero due perchè ho mi mancano tre spunti tre quattro spunte alla fine della coppia per l'obiettivo per la civica beh fermarsi c'è fermata è l'ultimo questo è l'ultimo ah siamo in mezzo al deserto devo scappare ragazzi devo scappare per vedere scappare dove? della grotta immagino si della grotta chiaramente giusto questo è proprio l'ultimo ok ti dico solo che ci sono 1817 nemici in questo livello si è vero e quattro segreti si è una roba senza cinza questo livello e cannone che cannone? nooo cannone coltata ah ma perchè se lo tolgono dal livello d'altro? attenzione c'è la musica epica cannone? ma ci si levano tutte le armi? nooo ci abbiamo ce l'avevo tutte le armi? ah che lungo cardiaca non l'avevo già presa questo che mi ha dato no? forse un tot di volta un tot di volta un tot di volta un tot di volta sto continuando a sparare a ma sto continuando a istirpare i cuori sto personaggio senza testa guarda che ti spawnano super in giro ma che bello qui che fascino eh bomba cambia skin che ti sto sparando a te e qua tutto nero non si vede la niente si vede un cazzo sei vestito come loro ma ne avessi o c'è Ci sono le casse di C4, vorrei dirti eh No, beh E tu metti il C4 dei razzi? Spara i razzi che sparano razzi con quello di posto Il razzo che spara i razzi Bellissimo Bene, abbiamo fatto fuori da 400 comunque Ti fate arrivare i razzi per piacere? Quanto l'ho fatto questo da subire un po' Un passo avanti vicini al tiro Cioè sei morto per il verbone praticamente Beh praticamente io sono arrivato qui Ci parte che magari non è neanche tutto ma sono talmente tanti Che alla fine ti sembra luchissimo Beh si cavolo Fatemi arrivare ai razzi Da merda E arrivano anche i discheletri E anche il post finale è molto particolare Non mi ricordo come si faceva ma non ricordo Non bisogna neanche di armatura Figlio di merda Facciamo Attenzione 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 EXTRA LIFE Dove l'hai trovata? E sono anche morto c'è una cogrotta in fondo Sì Eh vabbè ma andate a cagare Mette stra... Ne ho trovata una per perdere due Morire? Morire? Ti toglie i punti qua Sì ma ci sono 15 scheletri tutti addosso a me Eh qua però voglio dire... Vi dico solo te... Eh come faccio a venire indietro? Sono 5 scheletri che mi stanno stuprando Dovresti avere la protezione in 3 secondi eh Non so dove state voi tra l'altro quindi Due di qua, due dall'altro lato mi segna Ohhhh Ha 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 fantastici li hanno al canto Eh qualcun altro Ci tro shouldn't He Un altro Un altro Un altro Un altro un è morto, l'altro è quasi morto ok dove sono i manco? toro chiamavano preparatori eccolo la manco bus sta salita per dieci più armature altro manco bus extra lei questo è di punti io anch'io oh grazie non c'è da giacchino tanto vero sono anche loro che è inutile guard tanto benissimo che è inutile su questo tipo di troppo non so che invece io nei vecchi sui mi sembrano un po' di parecchio ah no ma qua è brutissimo invece potremmo accendere tutta l'aria ma non potremmo torco mio insomma questa palla ci viene è quella che mi hanno guidato via non era che cosa ha fatto e tu non ti chiedi come mai è così grosso? stava qua no, no non come cazzo andavo in giro con volato io? beh giusto ahia c'è il coso grosso aia era uno stronzo dietro di noi aia va vai ehi avanti dai è solo dietro di voi solo che sono dietro di voi con un paio di scheletri oh sto sparando la sciaccia guarda lì guarda lì mi sono arrivata però Arma tu pure? Arma tu sì, dai Abbinatore Sì sì Cazzo! Dai Dio! Ma se ti faccio il porco Dio Ma no dai! Ahahahahahahahahaha Scusatemi e devo prendere altre 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 nuove Dai, ancora, Dio caro Aia, aia Ma va a cacare, vai I mostri più 7 milioni di mostri enormi E poi questi stronzi di schede, ma amma- Guardalo! Finito le vite non si può Questi cazzo di cosi madonna c'hanno sterminato è tutto da capo evviva c'hanno sterminato si ma hai visto quanti cazzo erano si ma io non mi sono neanche accorto me le sono trovate lì proprio su 7 addosso si anch'io me le sono trovate tutti addosso ogni volta che sponavo poi le sponi e ce le sono vati due addosso che t'ammazzano t'ammazzano troppo in colpo questi cazzo di cose no uno ma quando sono sporato uno mi stava già saltando addosso ma baffanculo chi ti beggava direttamente ma no ma no ma sai erio è pure finito l'acqua baffanculo